Manuel, partiamo dal tuo ingresso in campo, vi ho probabilmente tanta voglia di giocare, quest'oggi il gol è mancato veramente per centimetri. No, innanzitutto sono molto felice di essere entrato, di aver dato un contributo comunque alla squadra. Purtroppo siamo rammaricati perché la palla oggi non voleva entrare, però siamo fiduciosi, anche in settimana ci siamo parlati tra di noi, ci siamo detti che comunque dobbiamo essere più cinici, vedi anche a Salerno l'occasione di Nizietto e di Beppe De Luca e niente, continuiamo a lavorare sperando in bene. Come si migliora questo aspetto? Perché siete tutti i ragazzi che il gol lo avete sempre fatto, manca sempre qualcosina per portare a casa queste partite eppure create tanto, è un discorso mentale secondo te Manuel? No, come dici tu, creiamo tanto, però sotto porta siamo poco cattivi, ci alleniamo comunque bene, siamo tutti uniti, sappiamo che comunque siamo una squadra forte, bisogna soltanto lavorare, curare qualsiasi dettaglio e essere più cattivi sotto porta. Adesso forse la sosta arriva nel migliore di modi, c'era anche un po' bisogno di rifiatare, magari anche di recuperare qualche giocatore. No, questa sosta ci permette di lavorare ancora di più, colmare le nostre lacune e comunque far sì che le prossime partite andranno meglio.